In conferenza stampa ho detto che ho preso a prestito una bellissima frase di Lorca che dice che il teatro è poesia che esce dalle pagine per farsi anima. Io considero questo il luogo, io ho sempre detto che il teatro è il luogo del cuore, il luogo dell'anima, questa è l'anima della città, il cuore pulsante. In questo teatro accade tutto, in questo teatro ci si incontra tutti, passano intere generazioni dal teatro, allora è impossibile non concepire il teatro come l'anima della città. Passano tutti, passa di tutto, che diventi sempre di più veramente il luogo di incontri felici e fortunati. L'anima della città è questo il teatro Umberto Giordano.